Comunità per anziani irregolare resta aperta nonostante il provvedimento di chiusura, denunciato titolare. Agente della squadra amministrativa della divisione congiuntamente a personale medico del Sian e del Siav di Siracusa nel corso di controlli amministrativi hanno appurato che nonostante gli uffici del Comune di Siracusa avessero notificato il provvedimento di chiusura di una comunità per anziani, il titolare della struttura ubicante nella zona centrale di Siracusa prosegueva regolarmente l'attività. In particolare al titolare dell'esercizio era stato intimato di provvedere entro 25 giorni alla notifica del provvedimento di chiusura alla sistemazione degli ospiti presso i parenti e o altre strutture regolarmente autorizzate all'accoglienza degli anziani. Nell'atto del controllo il personale intervenuto ha accertato che all'interno della struttura erano ancora presenti alcuni anziani e che alcuni farmaci erano mantenuti all'interno di un frigorifero unitamente a prodotti alimentari. All'esercizio del controllo amministrativo il titolare della struttura è stato denunciato per aver omesso di ottemperare il provvedimento di chiusura e conseguentemente poiché svolgeva l'attività senza alcuna autorizzazione sono state levate le contestazioni di carattere amministrativo.